Il discorso scolatico Giovanni Delosa, sempre molto caro, ringrazio le dottoresse Silvece e la dottoressa Bianca Delosa per questo invito e per il mio grande sostegno, perché sapevo che oggi l'uditorio non fosse un po' brutto, vedo tanti giovani e quindi mi trovo posto nel mio abitato e ragazzo, perché voglio dire il prezide e prendo la docente, quindi è un rapporto immediato che ho per gli agazzi e anche sulla posta di questo cercherò di strutturare gli interventi in una maniera più leggera. Io sono stata chiamata a fare una riflessione sui caratteri sociali e culturali che sono legati all'administrazione e però sia dalle varie imprese, come molti dalle letture che mi hanno preceduta, sia dal pubblico in sana cercherò un po' di compagno a questo intervento, che è un po' più accettibile, perché io ho la presentanza di miei amici e mi spero che hanno lavorato al progetto in cui vanno un po' di alimentare i giovani però mi rendo conto che probabilmente, grazie a questi ragazzi, che sono essendo gli attori privilegiati di questo progetto stanno qui a portarci, quindi spero di non mangiare di molto. E quindi fino adesso si fa un po' della problematica tradizionale dell'etopatogeneo, cioè della causa e dell'origine di certe malattie legate all'administrazione. Io vado a toccare un altro attento, come si lega all'administrazione dal punto di vista sociale e culturale rispetto a quelli che sono i nostri istituti ambientali, le nostre scelte, le nostre abitudini. Il prezide poco fa ci diceva che l'administrazione si nega alla cittadinanza, cioè alla consapevolezza da parte di chi consuma il cibo. Cioè prima di sapere che punti abbiamo, forse sarebbe anche utile sapere perché facciamo certe cose. E vedete, noi facciamo molti atti, molti gesti, inconsapevoli, abbiamo molte abitudini di cui molto spesso non ci troviamo eppure. E non è una cosa che ti sto dicendo io in questo momento, ci sono vari studi che vanno in questa direzione, studi, gli effetti che sono semi-optica, il culturalismo, in cui ci si interroga, innanzitutto perché ti lanciano le determinate cose, ti fanno le scelte, e poi perché si escludono e si escludono di realizzata a tavola. Cioè perché ci si approccia con il gusto o con il disgusto a certe dividere identica. Ci sono una serie di studiosi, ho piantato una gallerata che sono diventa molto peccante, è riuscito qualcuno perché se non facciamo la citazione della voce, se non restiamo dicendo tante piacche, se abbiamo abiliato proverso e via, ci dice che c'è un apporto stretto, da un sviluppo tecnologico all'interno della società, e quindi penso che invece poi le nostre scelte, le nostre attitudini di realtà, che cambiano. Così pure, per esempio, il Donald Trump ci dice che noi includiamo e studiamo certi cibi, perché sta collegando a delle identità di carattere sociale, molto spesso certi capori di istante, sono caratterizzati da problemi di carattere emotivo, nel momento in cui noi mangiamo delle cose, probabilmente in cui noi agitiamo delle sofferenze, anche in tipo sociale, cioè delle resistenze, di istante, diciamo, delle condizioni che noi abbiamo servizzato verso particolari uomini, verso particolari personaggi. Noi ci dedichiamo che l'effetto della globalizzazione è stato determinante per l'evoluzione delle nostre scelte ambientali, di un attitivo a una parola dottoressa dell'Ecdola, però con l'effetto della globalizzazione c'è stato il fenomeno misto, cioè l'istitivazione, tra quello che è la distinta del cibo locale, voi vedete che oggi c'è il ritorno a concentrare le nostre tradizioni locali, quindi i nostri prodotti chimici, i cosiddetti doc, no? Per esempio il fattigiano reggiano sulle tavole, però con il pomeriggio che cosa succede, facciamo anche delle scelte di cibi che c'erano anche oltreoceano, quindi c'è una, come dire, una funzione, una sorta di cucina del mondo, in mani di fine anche di separazione, questa è una delle linee, vedete che il cibo, se noi ci serviamo, al cibo si vengono tanti tipi di classificazione, noi portiamo, scusate, se un passaggio tanto non fare, poi dopo ho partito dalla roba, i ragazzi che hanno preparato un'ultima professione, non so che hanno preparato un lavoro che è sicuramente un corpo vicino a voi, allora, la classificazione per esempio di cibi, anche quegli obuscoli che non so spesso troviamo in piccola, sui manuali in Italia, vogliono farci vedere che ci sono delle scelte che si perdieggiano, non solo per le cucine locali e regionali, ma anche per le categorie per le giovani sociali, ci sono per esempio le parti lavoratrici che mi dicono ci più semplici legati all'abondanza, poi ci sono delle parti più medie che probabilmente sono un tipo di cibo un po' diverso, quello che viene chiamato proprio voi siete dell'avventura, quindi avete qualche posizione più di mela, non è più di mela, no? E vedete anche la cosa interessante, prima che vi ho parlato di cambi rossa, non usare l'avventura, sapete che la carne è un cibo che ha un suo ritaggio culturale, cioè ti dice che la carne è un cibo che viene già da voi, perché ipoticamente la carne richiama la caccia, la dovetta, la forza e anche la scelta tavola della carne è un cibo di genere, ci sono per esempio sulle tavole, tavole in cui la carne viene chiamata e in cui la carne diventano un elemento di differenziazione anche di genere, poi anche per esempio quando si dà gli ristoranti, queste penso che sono problemi anche un po' per cucina a voi, molto stesso si dà gli ristoranti del buon gusto, no? Perché si rileggiano alcuni cibi piuttosto che altri, quindi anche la scelta, tutti con gli ristoranti, però ci sono anche questioni, di là del buon gusto legato particolarmente al palazzo, scelgono dei buonanze e delle chitanze, del gusto che evoca quella determinata chitanza. Oggi è di moda questa cucuola di sommelier, no? Per esempio certi lini in più, che altro non significato anche a livello simbolico, quindi possiamo vedere che poi non è accanto che noi facciamo solo scelte di tipo consapevole, probabilmente visto le nostre scelte c'è tutta l'influenza anche di tipo culturale. Un'influenza che naturalmente si chiama anche il piano etico, da questo abbiamo il professor Rossiniani dell'Università della Comunità di Nato, perché sicuramente non si tratta di tempo, sono scelte di me. Scegliere di chiamare di cosa significa, ne ho parlo a mezzo, poi il professore confermerà quello che mi ha detto. Significa fare innanzitutto la scelta rispetto alla famuta, alla tutela della salute, rispetto a quello che può essere anche la tutela della salute, della natura, i rapporti internazionali in tema di mercati, quindi di paesi che sono valori di russo. Ma soprattutto significa dire che questo, da questo punto di vista il cibo si deve scegliere con un altro controllo. Se noi lo svuotiamo un ultimo caso di un'ottorezza solo dall'aspetto nutrizionale, dalla medicalizzazione e dell'alimentazione, possiamo, caro del professor Rossiniani, investire anche di una componente filosofica, non di cibo. Molto spesso la gastronomia, per esempio, viene associata alla scelta dell'assessibilità cosiddetta l'esternica e poi sono due parti completamente diversi, ma in comune secondo me è il comune denominatore, ma la scelta del gusto, la scelta del bene, la scelta del cuore, della parità. E quando andiamo al cuono, noi facciamo ancora una scelta, quella della legalità che parlava prima, il professore. Che cosa significa fare una scelta di legalità? Significa sottrare il cibo alle manche. Significa che mangiare bene, significa mangiare detto. E questo ce lo dimostrano anche le esperienze che noi abbiamo, di alcuni sensori, per esempio, tra la mafia, anche per citare uno, le terri di Ortega e Viana, che poi producono, diciamo, delle terri, danno, offrono delle soluzioni agroalimentate molto eccellente, nonostante saputo il Fischer, che le minacce, noi sappiamo che i proprietari si fanno sentire tolte, ma non sono loro di questo tipo. E vado alla produzione. Abbiamo anche altri tipi di attitudini che si legano alle trasversioni alle decennie. Abbiamo finito parlare di buca panca, di cicli crongerici, rispetto a quanto naturalmente ci sono dei movimenti di ribellione, di protetta, anche dal punto di vista alternativo di quella controcultura americana, che invece l'ha fatta di legge anche quelle culture biologiche, che oggi sono un momento sul nostro mercato mondiale. Allora, appunto, il 10%. Oppure, ancora, i movimenti dizionali del contesto è consolidato, di tutta la filiera orientale, e oggi comincia a toccare il 20%. Quindi, vedete, una coscienza, una compotevolezza, così come diceva prima il 30, sta cominciando a rinascere in noi. E poi, l'ultimo offer, non per portare, ma per la trattazione del 12% è anche la scelta di legge italiana. Questa è un'altra categoria, perché bene in occidente abbia una componente, diciamo, minore, però non è più rivoluzione. C'è la scelta volontaria di portare i carni dalle tavole e del rispetto ambientalista per problemi di natura etica e anche proprio come risposta, come reazione alla generica, all'ingegneria generica dell'amministrazione. Quindi, è vero che un'altra condizione è quella, poi, che vi lascio, è quella della cucina etica. Voi, ragazzi dell'Otentino, penso che su questo siete sempre più preparati di noi. Noi, penso adesso, questi modi, no? Per le cucine di altre etnie. Come nasce questa scelta? Nasce anche dal fatto che quattro migranti arrivano all'Italia. Sotto alcuni aspetti vengono a privilegiare per manere ancorati alle loro origini i cibili di loro credenza. Però, nello stesso tempo, si parlano autori di un processo di liquidazione e quindi, anche da noi, vanno ad intensificare dei carni, anche di gusto alimentare. E adesso, fino a rilasciarvi, non so, tornerà ragazzi o di un professore. Allora, lascio la parola al professor Toscignani. Grazie.